Forse per la calca che vi faceva pressione, forse un cedimento del massetto che lo reggeva ormai nei punti di fissaggio completamente sfarinato, forse per la notevole ruggine che la salsedine, unita alle mancate manutenzioni, aveva ridotto a sfoglie di ruggine i sostegni. Fatto sta che la baloustra in ferro di diverse decine di chili di quasi 10 metri di lunghezza nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo l'1.30, è venuta giù. È solo per una casualità che qualcuno non ne sia rimasto schiacciato. Alcuni testimoni oculari dell'episodio riferiscono però comunque che qualcuno dei presenti ha riportato piccole abrasioni ed escoriazioni e certamente per i presenti tanto spavento e fortunatamente, data l'ora, di bambini non ce n'erano nei paraggi, ma se veniva giù la baloustra alle 20 di sera, mentre c'è il passeggio delle famiglie o con il passaggio delle bici, le conseguenze potevano essere ben più gravi. Sono stati poi gli stessi presenti, aiutati dal personale del locale, di fronte a mettere in sicurezza la struttura portandola in spiaggia e ad avvertire anche con delle foto le autorità che sin dal mattino presto, con due pattuglie della polizia locale che presidiavano il posto per evitare il passaggio e poi con una ditta rapidamente reperita dai tecnici del comune, cosa non da poco dato il periodo di ferie, hanno provveduto ad una recinzione di fortuna in attesa poi di interventi più radicali, così che già da metà della mattinata di sabato il ponte era ripercorribile dalle tantissime persone che giornalmente lo utilizzano, essendo l'unico a mettere in comunicazione, senza dover passare dalla nazionale, la ciclabile Pesaro-Fano e il Lido. Noi del suo stato di assoluto degrado, con tondini arrugginiti in bella vista, strutture metalliche penzolanti e cemento sfaldato, ne avevamo dato conto in un servizio nella primavera passata, denunciando le sue condizioni di incuria e di conseguenza di pessima cartolina per Fano e per le migliaia e migliaia di turisti che a piedi o in bici durante tutta l'estate lo ripercorrono. Ma oltre a noi di questa situazione che si protrae da anni, ne hanno fatto istanza al Comune in molteplici occasioni anche gli operatori commerciali della zona che avevano la baloustra sotto gli occhi ogni giorno e i cittadini che hanno a buon cuore il decoro della città.